Ciao a tutti ragazzi, oggi sono nelle cucine di Giallo Zafferano e farò una ricetta davvero wow! Iniziamo a prendere un recipiente, aggiungiamo uovo, latte, sale, zucchero, farina 00, lievito per dolci, farina di mais e mescoliamo il tutto fino ad avere questo composto. Prendiamo un contenitore stretto e alto, aggiungiamo il composto all'interno e mettiamolo da parte. Dopodiché prendiamo i viustel, tagliamoli a metà in questo modo e infilziamoli con uno stecchino. Per finire passiamoli in farina 00 e nel composto fatto in precedenza e non ci resta che friggerlo a 180 gradi in olio di semi. Dopo circa 5 minuti è pronto. Ragazzi provateli che veramente sono qualcosa di spettacolare! Ora la parte che preferisco, mamma mia!